attenzione c'è una squalifica atleta in corsia tre Silvia Battaglia nuoto club Milano stata squalificata per falsa partenza partita la serie numero otto presentiamo la settima dalla prima all'ottava corsia Beatrice Cuoghi, Anna Caleffi e Mattigano, Ilaria Pareschi, Beatrice De Falco, Isabella Corbetta, Federica Previtali, Giulia Gianfrancesco Maila Falcone trentaquattro novantasei